Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese e Fedeli. Vediamo la situazione del traffico della mobilità in Toscana in questi minuti a cominciare dalla 1 dove troviamo rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 variante. In a 11 code per traffico tra Firenze ovest e Prato est verso Pisa e coda in uscita a Monte Catini Terme per chi proviene da Firenze. Incipili i code a tratti tra Scandici e la Strassigna nelle due direzioni per chi proviene da Firenze e inoltre coda in uscita alla Strassigna. Per il traffico ferroviario ricordiamo che è in corso fino alle 21 uno sciopero del gruppo FS Tranitalia e Tranitalia T per possibili disagi e cancellazioni. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze prudenza per probabile presenza di materiale incarreggiata segnalata in via della colonna. Buonasera, siete Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!